Sapete cos'è questo? Si chiama Plumpy Nut. È un integratore alimentare a base di burro di arachidi che viene dato ai bambini gravemente malnutriti. È un vero e proprio salvavita. I bambini possono succhiarlo direttamente dalla confezione e in pochi giorni riprendono subito peso. Pensa, questa bustina costa meno di un euro. Aiutiamo Save the Children a dire basta alla mortalità infantile. Invia un SMS o chiama da rete fissa questo numero. Con il tuo aiuto è facile salvare la vita di un bambino.